Al via i lavori per la messa in sicurezza del ponte di via del Centenario. L'intervento cominciato questa mattina prevede la chiusura della carreggiata di via del Centenario nel tratto di strada compreso tra via Adige e prima del chiosco adibito alla vendita dei giornali ubicato di fronte al civico 124. L'opera, finanziata dal Cipe per un totale di 1.300.000 euro, permetterà di arginare possibili esondazioni del Tusciano. I lavori, a meno di rallentamenti, dureranno circa nove mesi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS